Voi sapete quello che penso per qualche vostro servizio da malviventi, ma il problema ovviamente non è questo, pieno rispetto per la libertà del mondo della stampa, ma il problema è che a quei ragazzi, quelli adulti, i dirigenti veri, non hanno saputo trasmettere in maniera rigorosa i valori della tolleranza, dell'antifascismo. E' una vicenda che fa venire fuori una sostanza, quello è il problema vero, non l'iniziativa giornalistica. E chiedo, si ha visto le immagini della nostra inchiesta sulla giovanile di Fratelli d'Italia, quei bracci tesi, sigail, frasi antisemite, che effetto le ha fatto? Non ho visto le immagini, ho letto i giornali, ho visto le immagini sui giornali, noi possiamo anche considerarvi, voi di fanpage, dei malviventi. Voi sapete quello che penso per qualche vostro servizio da malviventi, ma il problema ovviamente non è questo, pieno rispetto per la libertà del mondo della stampa, il problema è la sostanza. Il problema non è rompere il termometro che segnala la febbre, ma vedere di guarire dalla febbre o in qualche caso dall'epidemia. La tragedia vera è che a quei ragazzi, che io non voglio neanche colpevolizzare più di tanto, alla fine sono dei docenti che non hanno il senso della vita, ma il problema è che a quei ragazzi, quelli adulti, i dirigenti veri, non hanno saputo trasmettere in maniera rigorosa i valori della tolleranza, dell'antifascismo, della lotta al razzismo. Quando abbiamo celebrato Matteotti ho ascoltato parole talmente ipocrite e ambigue che mi sono indignato, qualcuno ha dichiarato la caduta del fascismo ha consentito la nascita della democrazia. No, bisognava prima dire, per far cadere il fascismo ci sono stati migliaia di morti, migliaia di persone incarcerate, migliaia di cittadini torturati, abbiamo dovuto conoscere la vergogna delle leggi razziali, che è una vergogna incancellabile. Beh, così si educano anche i giovani, parlando chiaro e operando rotture, anche con la propria storia, in maniera decisa, senza opportunismi e senza equivoci. Allora, è una vicenda che fa venire fuori una sostanza, quello è il problema vero, non l'iniziativa giornalistica. Grazie a tutti.